Dopo tre giorni di serrande abbassate per mancanza di rifornimenti, l'hub vaccinale dell'ex Ristodi Pesaro, così come quello del Codma di Fano, hanno riaperto i battenti in questa mattinata di martedì e qui al Rossini Center sono diverse le persone che sono tornate a mettersi in fila per la somministrazione anti-covid e per dare nuovo slancio alla campagna vaccinale in vista delle ferie di agosto e soprattutto in vista della fatidica data di venerdì 6 agosto, quella in cui entrerà in vigore l'obbligo del Green Pass vaccinale per accedere a diversi luoghi pubblici su tutto il territorio italiano, dai ristoranti a palestre e piscine, dai cinema agli stadi, dai musei ai luoghi dello spettacolo, tante situazioni in cui sarà richiesta la certificazione verde. E dunque il vento è cambiato, appena due settimane fa a luglio si arrivava a stento al 10 per cento delle prenotazioni sui vaccini e sugli orari di somministrazione disponibili, ora in provincia sono previsti quasi 10.000 vaccini da somministrare da oggi fino al weekend. Non soltanto le prime dosi, quelle cioè che servono per intraprendere la strada del Green Pass, ma anche tanti richiami che erano stati rimandati in attesa di rifornimenti di sieri. Rifornimenti che erano andati esaurendosi proprio in relazione al calo delle prenotazioni dalla prima metà di luglio. Ieri invece di vaccini ne sono arrivati 1.300 per ripartire la campagna nella provincia, campagna che sarà rafforzata ulteriormente da domani quando per il territorio provinciale arriveranno altri 10.000 sieri. Il vento dunque è cambiato anche per i diversi giovani che si stanno aggiungendo alla campagna vaccinale, quella fascia under 30 che era invece mancata nella prima fase della somministrazione dei vaccini durante questa estate.